E' stato effettuato a Monte Carlo il sorteggio della base a gironi di Champions League. Per le due formazioni italiane, Juventus e Roma, i gironi sono particolarmente insidiosi. I viacoteri di Massimiliano Allegri affronteranno gli inglesi del Manchester City, gli spagnoli del Sevilla ed i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. Peggio è andata alla Roma che avrà come avversaria i campioni in carica del Barcellona, i tedeschi del Bayern Leverkusen che nelle preliminare e nella gara di ritorno hanno battuto la Lazio per 3-0 e i bielorussi del Vatevorisov. Proprio il girone più insidioso è stato commentato dal tecnico giallorosso Garcia. Dietro il Barcellona mi sembra un girone aperto e siamo contenti per ora di non trovare il Bayern Monaco. Per Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, sono sfide dure e affascinanti, ma ce la faremo. Tra l'altro c'è anche da dire che il girone della Juventus a prima vista non presenta particolare insidia. Forse il Sevilla ed il Borussia Mönchengladbach, mentre il Manchester City include un po' di paura.